Hai capito, Sra. Aurora? La vostra afflizione si cambierà in gioia. E quindi non vale solamente per quel caso lì di duemila anni fa, che hanno visto che hanno ammattato Gesù, sono scappati tutti, tutti tristi, poi Gesù è risorto. Ma succederà proprio così, per tutte le cose, per ogni dolore, per ogni afflizione, per ogni fatica della vita. La nostra afflizione sarà cambiata in gioia. Allora andiamo avanti con tanto entusiasmo, con tanta forza, senza mai storaggiarci. Perché è proprio vero, eh? Voi sarete afflitti, è vero, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia.